Qual è stata la primissima inchiesta di Foo Flicks? Il primo guru che hai smascherato? Guarda, io credo un vostro prossimo ospite dovrebbe essere Thomas Makarig il primo video dove facciamo vedere gli ordini autofatti gli ordini fatti con il cash on delivery code COD Quindi essenzialmente lui faceva delle dashboard fake utilizzando Sì, l'accusa era questa e tra l'altro parliamo del primo Makarig proprio all'inizio Che anno era? Era 2000